Ciao, mi chiamo Emma e il libro di cui vi sto per parlare oggi nonché uno dei miei preferiti è questo Mio fratello rincorre dinosauri scritto a Giacomo Mazzariol, ispirato a Nostra Rivera Allora, i protagonisti sono Giovanni, un bambino affatto alla sindrome di Down, e il suo fratello maggiore, Giacomo Prima della nascita del piccolo, Giacomo è molto agitato e sicuramente entusiasta A Pelaver effettivamente nasce, noto alcune sue particolarità estetiche e comincia a pensare che abbia dei superpoteri Quando crescendo, però, comprende il fatto che il suo fratellino, quindi Giovanni, soffre della sindrome di Down Inizia a vergognarsi nel nasconderle sui miei citroni al suo mio amico Vitto Finché un giorno, a ritorno dalla festa di carnevali, Giovanni e Giacomo incontrano Arianna, con lei che piaceva a Giacomo Che, pur rimanendoci assai male, riesce a far capire a Giacomo quanto sia secezionale il fratellino un po' particolare che è Dora i dinosauri